Il posto in cui siamo è forse la metafora più significativa della nostra storia. Ai nostri piedi il Lazio, la valle larga, Lazium, che è stata la culla della civiltà romana. Questa follia può diventare anche follia divina, mania divina, c'è Platone, un fulore erotico. Pasolini viene ucciso ufficialmente, tecnicamente, il 2 novembre del 1975. In realtà si è cercato di ucciderlo prima. I repastori governavano le loro città, pascolavano le loro greggi, navigavano per scoprire nuove terre, andavano al di là, coltivavano i loro campi, scrivevano poemi e canti. Padre Angelo Secchi era il direttore del Collegio Romano, l'osservatorio da cui è nato nel 1938 l'Osservatorio Astronomico di Roma. E è una figura importantissima non solo per la storia dell'Osservatorio di Roma, ma per la storia dell'astronomia. Anzi, si può dire che con Padre Angelo Secchi nasce l'astrofisica moderna. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS